Il 26 luglio la Russia celebra la giornata della marina con sfilate navali in tutto il paese. San Pietroburgo ospita l'evento principale, oltre 45 navi prendono parte alla regata lungo il fiume Neva. Il discorso di apertura è stato pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin. Secondo Putin il livello tecnico della flotta russa crescerà, crescerà ancora per garantire la sicurezza del paese e i suoi interessi nazionali. Vantaggi unici e un aumento delle capacità di combattimento della flotta saranno raggiunte attraverso la diffusa introduzione di tecnologie digitali avanzate, i sistemi di attacco ipersonico e i veicoli sottomarini senza pilota che non hanno analoghi al mondo, attraverso i mezzi di difesa sempre più efficaci, ha detto Putin. La flotta russa è stata creata su iniziativa di Pietro il Grande nel XVII secolo, tuttavia la tradizione di celebrare la giornata della marina nell'ultima domenica di luglio risale all'era sovietica, essendo stata istituita solo nel 1939. Fu abolita nel 1980 ma poi ripristinata dal presidente russo Vladimir Putin nel 2003.